Dopo una settimana con parecchia instabilità e temporali, il tempo nel fine settimana sarà un po' alterno. Nella giornata di sabato avremo condizioni abbastanza stabili, con un ceno in prevalenza poco nuvoloso, delle velature che però andranno progressivamente interessando la Regione nel corso della giornata, temperature stazionarie sui valori attuali. Nella notte tra sabato e domenica arriverà un primo fronte che interesserà la Regione con temporali diffusi, localmente anche forti, proprio nelle primissime ore di domenica e poi ci sarà un temporaneo miglioramento con delle schiarite, probabilmente in mattinata e fino al primo pomeriggio della giornata di domenica. Seguirà un altro fronte, un'altra perturbazione proveniente dall'Atlantico che porterà nuovamente dei temporali sparsi sulla Regione e anche in questo caso localmente potrebbero essere forti. Temperature tutto sommato massime domenica ancora intorno ai 25-27 gradi sulla pianura e sulla costa. Dopo quest'ennesimo fronte finalmente il tempo andrà stabilizzandosi, entreranno correnti più secche nord-orientali e per cui a partire da lunedì avremo belle giornate con ceno in prevalenza sereno, atmosfera secca e questo bel tempo stabile proseguirà per parecchi giorni. Buon fine settimana a tutti!